Ciao a tutti, io sono Gianna e benvenuti sul mio canale Oggi vi farò vedere una conciatura veloce 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 Spiccia 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 senza una lira da spendere Perché bisogna fare pure le cose con meno soldi Stavo sempre a spendere i soldi Comunque, questa conciatura che ho in testa L'ho appena fatta due minuti Mettete un po' di lacca Un po' di lacca ed il gioco è fatto Andiamo a vedere come ho realizzato questa conciatura E' un po' di lacca Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.